Che ruolo ha la conservazione della memoria storica di Gemaitis nella società di oggi? Non c'è dubbio che insegni molto. Tra le tante cose che le lotte per la libertà possono insegnare, ognuno sceglie soprattutto ciò che gli conviene, ciò che apprezza di più, ciò che è accettabile. Ma forse quello che piace di più a me e quello che mi ispira maggiormente è il fatto che ogni combattente era un cittadino, era un difensore del proprio paese e sentendosi responsabile per il paese faceva quello che pensava fosse meglio. È così che ognuno di noi dovrebbe agire in una situazione del genere. Non sappiamo come sarà il futuro, cosa ci aspetta. Quando ne parlo, cerco di trasmettere questo messaggio. È questo che sottolineo. Ogni persona può fare molto. Non deve necessariamente affrontare la guerra. Può semplicemente essere onesta, lavorare duramente per il proprio paese, facendo anche le cose importanti come onorare o commemorare i partigiani o il nostro patrimonio culturale baltico. Ci sono tantissime cose su cui lavorare. C'è questa aspirazione, questo obiettivo, che la nostra società e ogni singola persona capisca che, anche singolarmente, possiamo fare molto. Ma ciò richiede una svolta. E questa svolta non è ancora avvenuta. È un peccato. E per questo motivo, che le lotte per la libertà non si fanno solo con le armi, ma anche con la coscienza, l'autocoscienza. Nel corso di molti anni, Jonas Jemaitis porta avanti forse sette, otto battaglie. Ma se contiamo quanti anni fu partigiano e quante battaglie ci furono durante quegli anni, ci rendiamo conto che la maggior parte del tempo non fu dedicata ai combattimenti. La maggior parte del tempo fu leadership e grande saggezza. La maggior parte dei ricordi, quelli che sono stati scritti, ci raccontano di battaglie e scontri. Questo perché viene chiesto quel tipo di ricordi. Il ruolo del comandante era fondamentale. Tutto dipendeva da lui. Non era più l'epoca delle bande. Non erano più i tempi della rivolta prussiana, dove il comandante doveva condurre in battaglia. Sì, all'inizio della guerra partigiana è quello. Il comandante è colui che viene scelto, colui che è coraggioso, che ha l'autorità e guida in battaglia. Ma le cose cambiano molto rapidamente. Il comandante è colui che deve essere protetto, che deve assumere il comando. Perché, secondo lei, fu eletto proprio Gemaitis nel 1949 come presidente del Consiglio del Movimento dei Combattenti? Ci sono molte ragioni, non tutte sono oggettive. Purché la memoria continua a vivere, purché quella persona sia importante anche oggi, è necessario creare un mito. E qui non dirò nulla di nuovo. Il mito è ciò che è storico, ciò che emerge, che è attraente, forte e importante oggi. Il mito ci fornisce i valori attuali. Com'è la situazione con Gemaitis? Secondo me il mito di Gemaitis non esiste ancora. Gemaitis è un unificatore, colui che riesce a fare quello che nessun altro comandante portò a termine prima di lui. La leadership di Gemaitis unì i partigiani, che prima si erano persi nei disaccordi, nei litigi, nelle ambizioni. Questo è ciò che gli altri comandanti non riuscirono a fare. Quando prende il comando Gemaitis è già il più autorevole. Fu anche un comandante saggio. Ovviamente c'era anche un'opposizione, ed è noto quale fosse. E fu molto positivo che ci fosse. Anche lui era consapevole di questo. In quelle circostanze, l'opposizione era una specie di organo di controllo. Come ancora oggi lo è in politica. Se non ci fosse opposizione, cosa farebbe chi è al comando? Nel 1948, Gemaitis creò Miracoli. Lavorò assieme a Petras Bartkus, un giovanissimo idealista, suo parente. Con lui fece un grande lavoro. Il mito di Gemaitis è proprio quello. Unisce i combattenti e riesce a mantenere l'unità fino alla fine. Nessuno a quel tempo mise in dubbio la sua autorità. Non ci fu alcun colpo di stato contro di lui, perché tutti lo riconoscevano come comandante. Gemaitis veniva da una carriera militare e fu nominato generale in seguito. Non abbiamo un altro esempio simile. Lui è fonte di ispirazione nel modo in cui pensa, nel modo in cui lavora saggiamente e nel modo in cui affida ad altri l'onere e l'onore del comando. Prende il comando quando non c'è nessun altro in grado di farlo. Ok, adesso è la mia ora. E lo fa in modo molto coerente, passo dopo passo. E possiamo dire anche con un significato simbolico. Prima i suoi numerosi nomi di battaglia furono Lukas, Matas, Jaltis e molti altri. Ma quando arrivò il giorno fondamentale per la storia della Lituania, diventa Vytotas, il sovrano lituano che compì l'unione dei due stati, lituano e polacco. Da quel giorno Gemaitis firmò aggiungendo Vytotas. Quando si rende conto che era il suo momento, che il suo ruolo stava cambiando e che il suo lavoro principale d'ora in poi sarebbe stata l'unificazione, perseguì solo questo obiettivo. E arriviamo al 16 febbraio 1949. È lì che tutto inizia. Gli anni 50 sono un periodo di costante crescita. La fine degli anni 50, invece, possiamo definirla come l'attesa speranzosa di una terza guerra. La situazione in Corea stava andando esattamente come volevano i nostri partigiani. Quando Lukas tornò in Lituania, portò importanti notizie sui cambiamenti in Europa, su quanto stava accadendo nel mondo intero. Purtroppo a dicembre, vicino al fiume Nemunas, Gemaitis ebbe un ictus e rimase paralizzato. Il 25 gennaio comunicò «Oggi lascio il mio incarico». A questo punto la storia diventa ancora più complicata. Gemaitis alla fine si riprende dalla malattia grazie alle cure di Giliute. Ricomincia a lavorare, non sa più che posizione ricopre. Nessuno l'aveva sostituito. Tornò a lavorare e a fare il comandante. L'intera catena di eventi è difficile da raccontare. Il punto non è combattere, sparare contro i nemici. Il punto è concordare tutto con i combattenti e agire all'unisono. Ed è quello che Gemaitis fece. Qual è la morale? Qual è la narrativa della guerriglia? Non esiste una storia unica. Ci sono molte storie che spesso addirittura si contraddicono tra loro. Ma la storia di Gemaitis è meravigliosa. Questa è l'intera storia. I valori di cui non dobbiamo mai smettere di parlare. È importante anche di fronte alla guerra in Ucraina. Questa è l'essenza per noi, come nazione, come Stato. In questo contesto, è molto triste dover ammettere che Gemaitis, oggi, è ancora poco conosciuto. Com'era la personalità di Jonas Gemaitis? Come la immagina? La personalità di Gemaitis è stata ricostruita molto bene da una storica lituana, Iole Gashkaite. L'ha raccontata molto bene, in maniera empatica. Oltre alle sue qualità personali, credo che nel suo percorso abbia influito molto anche la sua esperienza di lavoro nell'esercito. Quella esperienza gli servì molto, non solo a lui, ma anche agli altri combattenti, come Iosas Vitkus e tutti gli altri. Un'altra cosa, di cui forse non si parla molto, mi sembra molto importante, la presenza di correnti ideologiche, non solo nel movimento delle lotte per la libertà lituane, ma anche prima, durante il processo di creazione. Purtroppo sappiamo molto poco delle discussioni tra i membri del Consiglio, ma emergono o si notano due correnti ideologiche diverse. Una è cristiana, cattolica, corrisponde più o meno all'ala cristiano-democratica del periodo interbellico. Sebbene quelle persone fossero piuttosto critiche nei confronti del periodo precedente alla guerra, erano più legate ai valori cattolici e cristiani. L'altra corrente era un po' più lontana dalla Chiesa. Non oso chiamarli liberali, ma nemmeno di destra. Erano qualcosa di mezzo, possiamo dire il centro. È difficile caratterizzare bene quella corrente. Forse si avvicina un po' al movimento Santra Chiesa, un'organizzazione della diaspora liberale lituana. Gemaitis appartiene a quest'ultima corrente. Non lo fa notare, non si tradisce, ma lui non è il religioso. Ho avuto modo di parlare con molte persone che lo conoscevano o lo avevano incontrato in altre circostanze. spesso chiedeva a quelle persone che Gemaitis fosse religioso. solo una di loro, una partigiana che partecipò alla battaglia di Palapsiu nel luglio del 1946, mi raccontò che quando Gemaitis fu circondato dai sovietici, prima di sfondare l'accerchiamento, si fece il segno della croce e chiese aiuto alla Madonna di Sciluva. Si dice che quello fu l'unico caso in cui si comportò in maniera diversa dal solito. Un altro aspetto che racconta la personalità di Gemaitis è il suo bellissimo legame con il figlio Laimutis e il suo desiderio di vederlo. La madrina di suo figlio fece uno sforzo enorme per ben tre volte per farli incontrare. Sappiamo che Gemaitis non avrebbe dovuto farlo. Non aveva il diritto di mettere a rischio né lei né suo figlio e né tantomeno il consiglio del distretto di Kestutis. Ma lo fece. Questo mostra quanto teneva il figlio, quanto per lui fosse importante. Fortunatamente quegli incontri non si trasformarono in un disastro, in una cattura. Da questi episodi capiamo quanto lui fosse umano. Anche lui piangeva. Anche lui aveva dei sentimenti. Era empatico. Non era d'accordo nell'impiego delle donne nella lotta partigiana. In seguito lo proibì per proteggerle. Queste qualità personali di Gemaitis mi sono molto care. Lui era una persona brillante e nobile. Sono tante le cose che ci raccontano della sua grandezza. Tutti i particolari sono importanti. Osservando la sua caligrafia, le sue lettere, è come se lui mi parlasse. Si vede chi fu. Cioè una personalità di altissimo livello. soprattutto quando diventò presidente del Consiglio per la lotta delle libertà. Lui è il presidente, il capo, il comandante. se tutto fosse andato diversamente, se fosse scoppiata una guerra e gli alleati avessero invaso il territorio sovietico, loro sarebbero stati il governo fino a nuove elezioni. Gemaitis sarebbe stato capo di Stato. I suoi colleghi sarebbero stati ministri. Sarebbero stati grandissimi ministri. Secondo lei, oggi è dedicata abbastanza attenzione a Gemaitis e alle persone che combatterono per la libertà? Dovrebbe esserci un piano comune tra lo Stato e i cittadini che vogliono fare qualcosa per tenere viva la memoria di Gemaitis. Questa primavera abbiamo lavorato sul programma della memoria seguito dalla parlamentare Kuzmikiene. Speriamo venga approvato dal Parlamento. Il primo punto del programma è la realizzazione di un cenotafio. Una tomba seppur vuota per ricordare Gemaitis. È un atto simbolico ma il cenotafio deve essere realizzato nel pantheon dei capi dello Stato lituano. È un peccato che non esista ancora ma è molto positivo che se ne parli adesso. Nel cimitero di Antakalnis a Vilnius c'è uno spazio dove sono sepolti i capi dello Stato e lui di fatto lo è stato. Ancora oggi non esiste una via intitolata Gemaitis in tutta la Lituania. Come può essere? C'è una piazza ma più che una piazza è un parcheggio. Dedicare una strada a qualcuno deve avere anche una funzione rappresentativa. la questione di come devono essere ricordati i nostri combattenti è sempre molto complicata. Come avrebbero voluto essere ricordati? Come sognavano di essere ricordati? Per cosa sono morti? Si muore perché qualcuno si ricordi di te. Non si muore per essere dimenticati o perché il tuo sacrificio non interessa ad alcuno. Si muore perché le generazioni future possano parlare di te. L'unico documentario su Jonas Gemaitis è del 1994. Assieme ad Aiste Petroschiene ho scritto un libro. Ci è venuto naturale dedicarlo a Jonas Gemaitis. A chi altro avremmo dovuto dedicarlo? Siamo storici siamo ricercatori e conosciamo bene la storia. Sarebbe molto importante che più persone lo facessero che ci fosse una sorta di competizione tra coloro che vogliono realizzare un film su Gemaitis. grazie a tutti. Grazie a tutti.